MIGONI! Oh! Viamo qua! Che c'è? Oh, stai un po' attento a quella fare se chiacchiera, che io andando mi vado a fare una pisciata, va! C'è penso io! Eh, va, va! Pronto Gabbiano? Oh, chi è? Pronto Gabbiano? Qual è la vostra rotta? Eh, la nostra rotta è... un momento! Eh, la nostra rotta è Malta! Come? Malta ho detto, ma che siete sordi? A osturare ve le orecchie, Malta! Come? Calda? Ma quale calda? Malta! M come mortacci vostri! A come ali mortacci vostri! L come li mortacci vostri! T come tutti li meglio mortacci vostri! A come andate a morire ammazzati, voi ali mortacci vostri! Ah, i mortacci loro, oh!